Il notaresco torna al lavoro a Isola del Gran Sasso agli ordini di Mr. Bruno che ha meritato la conferma dopo lo straordinario finale di stagione quando Ariano contro il Roma City ha portato i suoi ad una strameritata salvezza. Allora Mr. Bruno, rispetto all'anno scorso si parte sicuramente con tante certezze in più per quel che ti riguarda non a correre ma a dirigere ogni allenamento. Sì, iniziamo un percorso nuovo, iniziamo da capo, siamo partiti un po' prima per cercare di conoscerci meglio e cercare di fare un lavoro più dettagliato. Partiamo con tanto entusiasmo, la squadra è totalmente cambiata ma i ragazzi sono partiti di carichi di entusiasmo e hanno tante voglie di fare bene. Dopo la salvezza dell'anno scorso nessuno avrebbe scommesso un euro sul notaresco si sente più maturo, si sente più pronto rispetto a 12 mesi fa? Ma sono all'inizio quindi conoscevo le difficoltà di questo percorso è andata bene, devo fare un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi dello scorso anno perché hanno dato l'animo fino all'ultimo minuto della partita raggiungendo una salvezza miracolosa. Le ringrazio profondamente perché hanno dato davvero tanto però è arrivato il momento di cambiare qualcosina in quanto abbiamo preso dei giocatori un po' più congeniali al mio sistema di gioco ma comunque non smetterò mai di ringraziarli e faranno sempre parte di me. Partiamo con questo nuovo progetto, questa avventura carichi di entusiasmo ringrazio anche la società che ci ha permesso di andare a fare questo ritiro per due settimane è un anno particolare per il notaresco, è l'anno del centenario quindi lavoreremo sempre con grande voglia e dedizione per dare felicità al paese e alla società. Il direttore sportivo Andrea Masciangelo non chiude assolutamente il mercato facendo però capire a tutti le intenzioni e la politica della società Rosso Blu. Hai raggiunto tutti gli obiettivi o c'è qualche giocatore che non voglio dire ti ha deluso però ha scelto altre piazze, ha preferito altri lidi? No perché sappiamo, ripeto, anche dalla parte nostra, da Miel Mist, sappiamo chi siamo e chiaramente non possiamo anche la società quindi sappiamo quello con cui possiamo ambire quindi siamo andati dritti e devo dire la notizia importante è stata che tutti hanno detto sì e si vede dal primo giorno di lavoro comunque lavorano con voglia, ascoltano lo staff e questa è la cosa fondamentale noi non dobbiamo pregare nessuno e non dobbiamo fare sogni pintatici quindi dobbiamo andare su profili che hanno voglia di mettersi in mostra con il lavoro di uno staff preparatissimo, di una società che ringrazia, organizzata che ci ha permesso anche di fare il ritiro e non è poco di tutti i collaboratori che si respira un'area di professionismo quindi sono tutti adoperati a sostenere questa squadra e siamo vigili su tutto, chi è ambizioso e vuole lavorare notaresco le porte sono aperte, sempre con le giuste condizioni Grazie direttore, buon lavoro Grazie, grazie a tutti